Il carcere Due Palazzi, nel mirino della procura, si indaga su una decina di detenuti che dal regime di alta sicurezza sono stati declassati a reclusi comuni. Tra loro alcuni ergastolani e mafiosi un tempo sottoposti al regime del 41 bis. I fatti risalgono a prima dell'aprile 2015, quando il carcere era ancora classificato come di massima sicurezza. La procura ha assegnato ai carabinieri il compito di indagare sul perché a questi dieci detenuti sia stato concesso di passare a un regime di detenzione più morbido.